I nostri materiali sono nuovamente elementi grezzi, sinceri, che vengono esaltati nella loro espressione più autentica. Una particolare attenzione è stata spesa nel loro costamento armonico, spesso ottenuto attraverso contrasto. La matericità della terra cruda viene stemperata dal carattere etereo della resina. La brutalità del cemento viene mitigata dal calore del legno. La strategia progettuale ha previsto una divisione netta fra la zona giorno e la zona notte dell'abitazione. Abbiamo immaginato di definire spazialmente un paesaggio interno attraverso l'inserimento di un prisma, un'argine, che cire al contempo le funzioni più eminentemente private. Il cantiere ha espresso anche in termini processuali la nostra idea di progetto. È fondamentale, a nostro giudizio, l'integrazione e la contaminazione tra il lavoro sartoriale degli artigiani e la competenza tecnica del progetto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!